Anche il titolare del Ministero dell'Agricoltura, parliamo del Ministro Stefano Patuanelli, ha fatto un giro nello stand della Regione Calabria. Allora, 2021, 7 miliardi di fatturato, insomma il vino italiano ha ancora tanto da dire, ma già dice tanto. Sicuramente dopo la pandemia, il 2021 è stato un anno molto buono per il vitivinicolo italiano, hanno 7 miliardi e 100 milioni di esportazioni, grande valore della filiera, grande capacità di rispondere dopo la pandemia. E chiaramente però questa assurda guerra non è quello che ci voleva in questo momento, dopo un anno molto buono come il 2021. Sono certo che i produttori avranno la forza di sopportare anche questa nuova crisi, il governo farà tutto quello che deve per dare il massimo supporto agli imprenditori. Si senta questa tappa anche nella Regione Calabria? Beh, insomma, al di là del rapporto personale con l'assessore con cui ci confrontiamo costantemente sui temi agricoli e agroalimentari, ma il riconoscimento del valore del vino per questa Regione meravigliosa e in generale il valore dell'agricoltura, che è un valore assoluto per tutta la Regione. Quindi era un dovere e un piacere esserci.